Sì, ho fatto un piercing, quindi se vuoi saperne di più, prosegui con questo video. Come state? Non vi ho fatto subito questa domanda, scusate. Ditemi, ditemi, ditemi come, 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 come state. Spero bene, dai. Io oggi sono qui per parlarvi, raccontarvi un po' di cosette. Allora, prima di tutto, prima di cominciare, mi raccomando, indossa un paio di cuffiette, oppure cuffie. I più grandi. Stenditi sul tuo letto e cerca di dormire, va bene? Prima cosa che voglio dirvi riguarda una cosa che non c'entra tanto, ma oggi in questo video avrei voluto che ci fosse anche un altro piccolo arcobaleno di led luminosi di qua, da questo lato della scenografia. Ma ho provato a metterlo, ma non mi diceva nulla, quindi ho preferito toglierlo per paura di confondere poi con le luci, fare un po' di robe brutte, quindi lo proverò a vedere ancora in diversi modi come come metterlo, ecco, però mi dispiaceva non usarlo perché l'ho trovato veramente carino, infatti all'inizio l'avevo preso e quindi mi dispiacerebbe non metterlo, ecco. Poi, parliamo però dai, di piercing appunto. Allora, il piercing che ho fatto è un helix sull'orecchio sinistro, ovvero questo qua. spero lo vediate. Non si vede tanto perché è veramente un pochino piccolo 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 piccolo. L'helix in generale è un piccolo piccolo buco, quindi... e attualmente indosso questo piercing argento che è quello standard, diciamo. Ha dietro una chiusura tipo piatta, immaginatevi una cosa piatta, da cui poi esce tipo un pirulino con una pallina. è proprio quello basico e la lunghezza della barretta, diciamo, è di 8 mm, che solitamente è la lunghezza standard. Però stesso il piercer mi ha detto che avendo l'orecchio piccolo, perché io ho le orecchie minuscole, quella da 8 mm risulta leggermente grande, quindi tra un mese o, diciamo, tre settimane ormai, già quando vedrete questo video, posso cambiare questo piercing con un altro uguale, ma più piccolo. e quindi, così, perché io se vedete da qua, da davanti esce un pochino di barretta prima della pallina, e quindi, così, però io non voglio tenere questo modello di piercing, io ho fatto l'helix, perché vorrei arrivare a mettere il cerchietto. Per mettere il cerchietto, il piercer mi ha detto che devo aspettare almeno tre mesi, perché ha una conformazione diversa, è rotondo, questo piercing invece è dritto, e quindi bisogna prima aspettare che si cicatrizi bene, per poi mettere quello rotondo, perché si dovrà fare delle curvature, non il piercer, il mio orecchio lo farà da solo, poi quando metterò l'anellino, delle curvature per far stare bene l'anellino, ecco. Quindi dovrò sì aspettare un po', ma non importa. Io, se volete delle date, ho fatto il piercing il 21, mi sembra, che era un martedì, il 21 febbraio ovviamente, verso le sei e un quarto di sera, più o meno per darvi un'idea, com'è stata l'experience. Non ero in ansia, anzi assolutamente, cioè, ero tranquillo, ero proprio tranquillo. Il piercer era un ragazzo veramente simpatico, che mi ha fatto prima sedere, diciamo, su un piccolo lettino, con un po' di inchiostro nero, ha fatto il puntino e una piccola righetta per regolarsi. Quindi, questo qui, penso che se avete visto delle persone che fanno l'elix o qualsiasi altro piercing sull'orecchio, avrete visto appunto che usano prima questo inchiostro blu. Poi, è successo tutto velocemente, perché stavamo parlando, quindi non è che neanche che lui dice, ok, preparati, adesso lo faccio, no? Stavamo parlando di robe varie, e poi sento letteralmente che appunto ha infilato l'ago. Se ha fatto male, allora quando ha infilato l'ago avrà fatto male, vi giuro, un secondo, un solo secondo, ma era qualcosa comunque di sopportabile. Non era un male eccessivo, era un po' di dolore, ma con l'etichetta, cioè, fattibile, assolutamente fattibile. Io ho una soglia del dolore media, e l'ho trovato comunque abbastanza fattibile, quindi, secondo me, e sa, era strano in realtà, sapere di avere un ago nell'orecchio, perché io sentivo che nel mio orecchio c'era qualcosa. Secondo me però ha fatto leggermente più male, quando ha dovuto togliere l'ago, per infilare il piercing, e poi chiudere il piercing, perché lì saranno stati due secondi, due o tre secondi, in cui mi ha fatto un po' più male. Più che altro appunto perché doveva togliere la, infilare il piercing, e chiuderlo, perché chiudendolo faceva un po' di pressione, e io che avevo appena fatto il buco faceva male, ecco. Però veramente anche qua, due o tre secondi, comunque qualcosa di sopportabile, assolutamente. E poi, finito. Finito. Ho preso in realtà un fazzoletto, mi ha asciugato un po', perché stavo un po' sanguinando, e nulla. Mi ha dato poi uno spray da mettere due volte al giorno, e niente. Questo qua. il primo giorno avevo tipo tutto il sangue secco intorno, infatti piano piano l'ho pulito tutto quanto, nei primi due o tre giorni. E niente. Sono felice di averlo fatto, perché lo volevo da veramente, veramente tanto. E l'unica cosa, adesso, io così, non ho male. Oggi è il 26 febbraio che sto registrando, non ho male. Se lo tocco, mi fa un po' male, ma poco, poco, poco. Se lo tocco tanto, mi fa male. Nel senso, in base a quanta pressione applico, diciamo. E infatti dormo dormo su questo lato. Mi ha detto anche lui di non dormire sul lato del piercing. Almeno per un po'. E quindi, questo qua. Non so se vi devo dire altro su questo. Fatemi sapere, voi, se avete dei piercing, quali avete, com'è stata la vostra esperienza. e niente. Io parlando di piercing, non so se ne farò altre in futuro, perché io l'helix all'orecchio sinistro lo volevo da veramente tanto e quindi l'ho fatto. Però non mi convince nient'altro, non trovo nient'altro di carino, ecco. Quindi, così. a sto punto, visto che stiamo parlando di piercing, perché non parlare anche di tatuaggi? Io non ho ancora nessun tatuaggio, anche se potrei farlo, perché i miei genitori sarebbero d'accordo a far meno fare. perché ho 17 anni e dalla tatuatrice in cui penso Andro le ha detto che è legale tatuarsi dai 14 anni in su, ecco, con consenso dei genitori. e quindi poi mia mamma ha due tatuaggi a mio papà piacciono anche se non ne ha mai fatto uno quindi loro sono d'accordo su questo e solo che ho preferito preferisco più che altro aspettare i 18 anni per tra virgolette regalarmelo da solo il tatuaggio farlo da solo io per me e ho in mente qualcosina nel senso io sin da piccolo volevo troppo fare sul braccio sinistro due strisce nere come Scott McCall di Tim Wolf due strisce nere sul braccio e nella parte diciamo interna quella che fa contatto con il corpo un piccolo lasciare un piccolo spazio in cui fare il simbolo dell'acquario non so se avete proprio capito quindi due righe che fanno il giro e nella parte quella più interna appare il simbolo dell'acquario questo diciamo ho quest'idea veramente veramente tantissimo più recentemente ho trovato un'altra idea che mi piace tantissimo ovvero immaginate due foglie però non due foglie tipo le foglie degli alberi due foglie tipo non lo so immaginate tipo la corona di alloro quella fatta tipo così ecco due foglie fatte tipo così qua su questa prima parte del petto piccole cioè non voglio fare una roba che mi arriva da spalla a spalla una cosetta così più o meno tipo da qua qua sulla grandezza bisogna vedere perché ho una foto però aspetta ve la mostro magari perché in realtà ho tipo trovato un tiktok con questa qui e quindi l'ho screenshotata aspettate così spero si veda quindi su questa parte qui queste queste due foglie magari fatte non lo so anche in uno stile un po' più elegante non lo so vedremo però comunque queste due foglie e questi due penso li farò sicuramente non tutti magari a 18 ma anche non lo so uno al 18 uno al 19 non lo so vediamo ecco e poi non non ho altre idee però non penso che farò solo questi due in tutta la mia vita ecco anche perché io so che i tatuaggi devono essere dispari perché pari porta sfortuna quindi devono essere dispari e nulla dai questo è volevo raccontarvi un po' queste cose perciò adesso dico cucù cucù ora tocca a te ah raccontami anche se tu hai dei tatuaggi cosa significano per te cosa sono come è stata l'experience se ti farli se ti ha fatto male no raccontatemi un po' comunque iscriviti al canale se sei nuovo o nuova per entrare a far parte della UBS community poi lascia un bel like e un bel commento qua sotto che tanto io lo leggerò e metterò il cuoricino ricordati di commentare che importante così youtube mi spinge ad essere più conosciuto nelle home delle vostre pagine youtube ecco il video di oggi finisce qui ma se tu resterai ancora insieme a me io lascio qua il mio video precedente qua una mia playlist e qua il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai quindi non ti preoccupare non ti preoccupare questo video è stato del tutto spontaneo sapevo soltanto volevo parlarvi di piercing e di tatuaggi non ne parlano in tanti non capisco perché sono belli quindi parliamo insieme e nulla dai un bacio che vi saluto buonanotte 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 buonanotte